Il pilota di Elicu, con un B-50 questo modello a finire che sarà anche un premio più tardi, è un lincopero di costa di armi, guarda questo. Questo è lo stesso per quello dell'elicopero che più tardi potrete vincere e anche l'orologio e anche l'orologio, il valore è solo. Il pilota di Elicu 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 Il pilota di Elicu